alcuni di loro morirono avvelenati dal piombo dei proiettili in mezzo alla polvere della strada altri morirono per la mancanza d'aria quando li appesero per il collo alla quercia nel centro del paese ma di tutte le maniere che ci sono di morire tutti proprio tutti scelsero la morte più violenta questo è campo santo il podcast dedicato a chi ama i cimiteri io mi chiamo giulia de pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi osservare le fotografie sbiadite dal tempo immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni un inizio di puntata un po forte non trovate colt e impiccagioni forse questo vi farà venire in mente i film di sergio leone con i pistoleri che si affrontano e si uccidono a sangue freddo nella strada polverosa davanti al saloon sotto l'implacabile sole del deserto del far west e ancora quei manifestini così famosi con la foto sgranata del bandito e l'inequivocabile scritta wanted ricercato se è questo quello a cui state pensando bravi vedo che dopo due puntate di camposanto ormai siamo sulla stessa lunghezza d'onda i versi che vi ho citato all'inizio provengono da una ballata molto in voga durante i tempi della corsa all'oro negli stati uniti d'america ed è in america che andremo oggi più precisamente in california e ancora più precisamente a est della sierra nevada e a pochi chilometri dalla valle della morte vi porterò alla scoperta di un cimitero abbandonato o meglio di una boot hill letteralmente una collina degli stivali che nel gergo dei fuorilegge del far west indica il luogo in cui venivano sepolti spietati pistoleri e loschi malviventi morti con gli stivali addosso non serenamente nel proprio letto bensì in modo estremamente violento avvelenati dal piombo dei proiettili e soffocati dal cappio delle forche come dice la canzone il cimitero che visiteremo oggi si trova a ridosso della città di body un tipico villaggio west fondato nel 1859 quando come da copione si scoprì un filone d'oro si fondò una miniera e tutti i cercatori della zona accorsero per arricchirsi la cittadina conobbe un vero e proprio boom nel corso del biennio 1878 79 la popolazione arrivò a contare quasi 10.000 abitanti e si iniziarono a costruire tutti quegli edifici così tipici di un villaggio western che quasi quasi sembra che me li stia inventando a body in quegli anni c'era la wells fargo bank la banca centrale puntualmente rapinata da malviventi senza scrupoli sulla cui testa pendeva perennemente una taglia c'erano la caserma dei pompieri la sede dell'unione dei minatori nella quale venivano organizzate feste il cui livello alcolico portava spesso e volentieri alitti e scazzottate e a volte anche peggio c'erano la banda cittadina e la stazione dei treni c'era addirittura una china town con un tempio taoista c'erano diverse scuole uno studio medico il giornale cittadino la chiesa numerosi empori e drogherie alberghi e locande negozi di alimentari e ferramenta e poi naturalmente c'erano tante case più o meno grandi con il loro portico di legno per godersi la brezza serale masticando tabacco e bevendo un bel bicchiere di vernice per bare che per chi se lo stesse chiedendo era una specie di whisky grezzo bello no vi sembra che mi stia dimenticando qualcosa avete ragione cari miei il fatto è che mi sono voluta tenere il meglio per la fine abbiamo parlato di violenza sangue e vite dissolute no mi sto sfregando le mani da sola al solo pensiero di quello che già so e che sto per dirvi pronti a body alla fine del diciannovesimo secolo ci sono anche una rivendita di oppio un quartiere a luci rosse più di 60 saloon e di conseguenza l'ufficio dello sceriffo con prigione annessa una grossa impresa di pompe funebri le cui bare esposte in vetrina ancora si possono ammirare un obitorio e naturalmente il nostro spartano cimitero del resto sappiamo come vanno le cose quando gira alcol forte tra personaggi di non proprio specchiata virtù la vita del wild west non doveva essere facile per niente e a quanto pare body non solo non faceva eccezione ma era conosciuta in tutta la california per essere particolarmente pericolosa omicidi sparatorie rapine e regolamenti di conti erano all'ordine del giorno ed essere un abitante di body costituiva una condizione così precaria che dicono gli abitanti si svegliavano ogni mattina chiedendo chi fosse stato ucciso il giorno prima le cronache dell'epoca riportano addirittura il passo del diario di una ragazzina di san francisco che una volta saputo che la famiglia si sarebbe trasferita a body scrisse terrorizzata addio per sempre sto andando a body ho reso l'idea siete entrati nell'atmosfera di questo episodio bene amici miei rimanete qui con me e indossate i vostri stivali migliori stiamo per fare una bella passeggiata nella main street di body siamo alla fine del diciannovesimo secolo dicevamo prima body è al massimo del suo fulgore ma la miniera d'oro viene progressivamente abbandonata certo c'è ancora qualcosina da estrarre ma i minatori giungono notizie di mirabolanti ritrovamenti nelle miniere dell'arizona dello juta e del montana molto più succulente di quelle californiane la miniera di body quindi chiude la ferrovia viene abbandonata e la città diventa sempre più isolata entrando in una fase di lungo e inesorabile declino che spinge gli ultimi residenti ad andarsene definitivamente negli anni sessanta del novecento per essere precisi è nel 1962 che si decide di preservare questa suggestiva città ormai fantasma del far west e di conservarla in quello che viene chiamato uno stato di arrested decay in altre parole gli interventi che vengono effettuati a body sono restauri mirati a non far deteriorare ulteriormente edifici e strutture per mantenerli in quello stato decadente e suggestivo tipico del far west il risultato di questo intervento body è congelata nel tempo e si mostra come una città fantasma in perenne declino ma alla fine rimane sempre così com'è con le sue strade polverose spazzate dal vento del deserto e gli edifici di legno sbilenchi spiando attraverso i vetri del saloon ho visto seggio le rovesciate attorno ai tavoli bottiglie mezze piene pianoforti scordati e specchi buccherellati da proiettili un tavolo da biliardo con le stecche pronte per l'uso mancavano solo i pistoleri con gli stivali sopra il tavolo e le fallen women le donne decadute che si appoggiano languide sulle spalle dei giocatori di poker la scuola del paese mostra ancora file di banchi e lavagne scarabocchiate e manca solo il suono della campana della maestra che richiama i bambini dopo la ricreazione la state sentendo anche voi ora che vi siete ambientati nella vita di questo paese selvaggio e che avete iniziato a guardarvi le spalle per capire se quei due pistoleri tireranno fuori le loro colt di fronte al saloon e voi dovrete nascondervi per non rimanere coinvolti ora che vi sembra di sentire sulla pelle quella sensazione di pericolo imminente e inevitabile scommetto che non vedete l'ora di fare un giro in cimitero prima di incominciare la nostra passeggiata però una domanda quale cimitero volete visitare ebbene sì ce n'è più di uno o meglio il cimitero è sempre lo stesso però è diviso in varie sezioni e si trova in cima a una collina dalla quale si domina tutto il paese sono state contate più di 200 sepolture anche se molte di esse non hanno una lapide oppure se la lapide c'è è illeggibile oppure è stata danneggiata da intemperie e vandali vi ho già detto che vivere a bodi non era facile non vi ho detto però che non si moriva solo con una rivoltellata in testa o appesi alla forca in una città come questa torrida d'estate e gelida d'inverno si moriva giovani di polmonite o difterite tanti bambini non superavano l'anno d'età si moriva di parto si moriva soprattutto per incidenti nella miniera esistenze precarie a prescindere da tutto e anche dopo la morte spesso la pace non arrivava subito dato che era la cittadinanza stessa a decidere quale reparto del cimitero si meritasse il defunto si venivano a creare delle faide tra i parenti dei morti che volevano far seppellire il proprio caro nella parte rispettabile dove riposavano i notabili della città spesso queste faide avevano esiti drammatici e alla fine invece di un morto solo da seppellire ce n'erano tre seguitemi ora l'erba è alta e secca e le lapi distorte si vedono appena ma non spaventatevi venite con me e vi farò conoscere i morti di body la prima parte del cimitero che ho scelto di visitare è quella per la brava gente trovo qui facendomi strada tra i sentieri dissestati tombe con lapidi di pietra statue cancelli in ferro battuto che circondano e proteggono le sepolture riposano in questa zona i resti del fondatore della città william body morto di freddo durante una bufera di neve e ritrovato tempo dopo mezzo mangiato dai coyote in questa sezione tra rispettabili cittadini più o meno importanti trovo anche alcuni cognomi che suonano familiari le famiglie scanavino e petralli di chiara origine italiana vantano infatti un certo numero di lapidi e sepolture trovo anche la tomba di evelyn myers la figlia del titolare dell'emporio morta neanche tre anni dopo essere stata colpita alla testa per un tragico incidente dal piccone di un minatore che lavorava nei pressi di casa sua a quanto dicono il fantasma di evelyn aleggia ancora tra le tombe in cerca di bambini disposti a giocare a ridosso del cimitero wards così si chiama il reparto che abbiamo appena visitato trovo la sezione dedicata alle tombe dei minatori la sezione massonica e poi un po scostata la sezione cinese i cinesi di body erano piuttosto numerosi vi ricordo che in città c'era anche una china town ed erano principalmente impiegati come minatori secondo la loro tradizione i corpi dei defunti venivano sepolti per il periodo necessario alla decomposizione completa in modo tale che i discendenti in seguito potessero mandarne i resti in patria purtroppo l'abbandono di body aggravato da un certo pregiudizio nei confronti di questa minoranza ha fatto sì che queste tombe venissero abbandonate e dimenticate non si conosce il numero preciso dei defunti di origine cinese poiché nessuna tomba è provvista di lapide si parla però di centinaia di morti senza nome mi sono lasciata per ultima la parte del cimitero che ne sono sicura sarà anche la vostra preferita non solo la mia ve ne ho parlato all'inizio ricordate al di fuori del recinto del cimitero ufficiale c'è la boot hill la collina degli stivali dove riposano i resti dei fuorilegge e degli scarti della società in sepolture marcate da croci sbilenche e in alcuni casi da desolati cumuli di sassi ma chi c'è sotto questa terra dura della sierra nevada tanto dura da diventare impossibile da scavare durante l'inverno ed obbligare i becchini a tenere per mesi i corpi nell'obitorio di mattoni rossi che si trova accanto all'entrata giocatori d'azzardo morti di overdose da oppio suicidi colombe sporche cioè prostitute figli illegittimi assassini ubriaconi morti di freddo c'è dave hitchell conosciuto come texas dave ucciso per un debito di gioco di 50 centesimi da jim stockdale c'è joseph de roche che durante una festa nella union hall dei minatori fece delle avance alla moglie di un tizio thomas trelor il quale naturalmente se la prese a male i due litigarono de roche aspettò il rivale fuori dalla festa per sparargli e ucciderlo e poi fuggì venne catturato da un gruppo di cittadini che lo portò nella prigione dello sceriffo e poi decise di impiccarlo a un albero un classico linciaggio così tipico di quei tempi rendo bene l'idea dell'atmosfera che regnava a body no e poi c'è lei rosa may la prostituta più famosa di body e della contea di mono seppellita sotto una lapide misera accanto al suo amante ernest marx proprietario di uno dei saloon più malfamati del quartiere a luci rosse rosa may dicono durante un'epidemia di polmonite aveva deciso di curare i minatori si era contagiata ed era infine morta nonostante questo la sua salma non era stata accettata all'interno del recinto tra le persone per bene il vento soffia tra le lapidi storte e mangiate dal tempo la collina degli stivali pur nella desolante solitudine delle sue tombe è ancora intrisa di pericolo violenza sangue polvere da sparo sudore e whisky da 4 soldi nel 1881 un certo reverendo warrington disse che body era come un mare di peccato sferzato da una tempesta di lussuria e passione non riuscirai a trovare parole migliori per descrivere l'atmosfera che respiro in cima a questa collina mi allontano dal cimitero e mi sembra quasi di vedere un'ombra accanto all'angelo bianco della tomba di evelyn avete ascoltato camposanto un podcast scritto prodotto e condotto da me giulia de pentor vi ricordo che nel sito camposantopodcast.com troverete le foto e tante altre informazioni sul cimitero di body noi ci sentiamo alla prossima settimana ciao